Mi chiamo Eleonora Prigioni, ho 25 anni e abito nel Pavese, in provincia di Pavia. Faccio un po' saperlo cosa faccio, ancora sto cercando la mia strada. Sono una ragazza molto dinamica, mi piace lo sport, ho studiato danza per tanto tempo e per questo collegandolo allo sport mi sono laureata in scienze motorie. Il mio sogno sarebbe comunque quello di continuare questa linea artistica e chissà cosa mi riserverà anche questa esperienza. I tragettivi che mi descrivono sono sorridente, energica e intraprendente. In questo momento direi tentare non nuoce, quindi uno deve tentare per sapere altrimenti non succede mai niente. Quello con il quale mi collego di più è Facebook perché ormai mi sono impraticata con quello e mi va bene così. Sì, posto qualche foto giusto per rappresentarmi innanzitutto e poi qualche post carino che descrive magari il momento in simpatia diciamo. Altri social network, cioè Twitter e Instagram. Instagram. Instagram per me è un giocare con la propria immagine quindi senza particolari ricami di frasi. Sono foto e arrivare diretto all'obiettivo con la propria immagine. È il creatore di Facebook. Il follower riguarda il social network Twitter. È colui che ti segue dal social. Si può avere un diretto contatto. A un fan mi viene in mente colui che ha una passione per... Ha un idolo e lo segue con una passione e ammirazione e fa la collezione di tutto ciò che lo riguarda. Su Facebook mi era capitato una richiesta per... Tipo fetish. Tipo gioco di piedi. Ma diciamo che mi piace tanto un po' il profilo, fa vedere gli occhi o la parte del viso che mi piace di più quindi direi questa. Sensuale. Oggi mi andavo a vestirmi così colorata e anche un po' forte. Insomma avere questo contrasto, non troppi colori, il massimo ci sono tre, io ne ho utilizzati due. Semplice, come mi sentivo oggi. Il rosa perché si va a pandan con la maglietta, così sono a posto anche qua col cuscino. È comodo, è proprio da risveglio e poi un pelucino perché così si ritorna anche un po' bambini. Ho scelto il cane perché non avendolo più è una bella cosa per me, comunque è simpatica la cosa quindi. Visto che io sono anche salutista, la mattina mi faccio il pane integrale con i mirtilli che vanno bene per le vene, per la circolazione. Semplice ma efficace. Pancia piatta per l'estate. Pancia piatta per l'estate. Pancia piatta per l'estate. Pancia piatta per l'estate. Oh. Oh. Grazie a tutti